Vuoi creare una startup ad alta intensità di conoscenza o espandere un progetto già esistente? Dal 21 marzo al 30 settembre puoi partecipare al nuovo bando Startup Innovative 2016. Il bando mette a disposizione oltre 6 milioni di euro per valorizzare i risultati della ricerca e contribuisce ad attuare la strategia regionale di specializzazione intelligente. Per i progetti di avvio possono presentare domanda le piccole e micro imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2013. Per i progetti di espansione, quelle costituite dopo il 1 marzo 2011. La partecipazione è esclusivamente online. Informati, vai sul sito della Regione. Con l'Emilia Romagna puoi fare di più!